Andiamo tutta in scena, andiamo le pronte in sartuaria per favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi, vai Motore, azioni, alza un pochino la testa Stai indietro a limite, adesso guarda in alto la giulazza Guarda sempre la mia mano Non vi fa come vi guardo Non vi guardo, eh non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi Buongiorno a tutti Il mio nome è Paolo Vivaldi Sono un compositore di colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione E con grande piacere voglio raccontarvi uno dei miei lavori più significativi Che è stata la colonna sonora del film su Adriano Olivetti Prodotta da Raiuno con la regia di Michele Suavi e magistralmente interpretata da Luca Zingeretti Quando mi è stato commissionato questo lavoro mi sono chiesto come poter raccontare questo grandissimo personaggio Che è stato Adriano Olivetti E come poter raccontare con la musica la sua straordinaria capacità innovativa Che ha aperto veramente le vie di comunicazione tecnologica Ancora diciamo in una maniera analogica Che però ha poi portato veramente una grandissima innovazione Con l'invenzione della macchina da scrivere E in particolare della lettera 22 Non è che la macchina da scrivere non l'ha inventata lui Ma lui è stato uno dei più grandi innovatori Nel campo della realizzazione delle macchine da scrivere Realizzando appunto questa lettera 22 Che era una macchina da scrivere portatica Come spesso accade Le intuizioni nascono per caso E quindi rimettendo a posto casa Ho trovato una vecchia macchina da scrivere E mi sono detto Perché non utilizzarla come uno strumento a percussione Che potesse portare il ritmo del tema di Olivetti E farne appunto il motore portante di tutta la colonna sonora E così è stato Ho trovato questa macchina da scrivere Che vi vado a illustrare Che questa è la lettera 22 E ho creato un ritmo Ecco su questo ritmo ternario Tanta 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 Nasce appunto il tema della colonna sonora Del film di Adriano Olivetti Che vi vado a eseguire Che vi vado a eseguire E via Poi dopo Adesso vi faremo vedere un filmato Dove appunto questo tema viene utilizzato Quando escono tutte queste lettere 22 Da un carrello nella fabbrica E c'è quindi la consacrazione Della nascita della lettere 22 Scrivere per il cinema È un lavoro molto particolare Che richiede forse una dote di incoscienza E molto coraggio Perché bisogna raccontare con la musica Quello che non si può raccontare Né con le parole Né con le immagini Quindi la musica diventa un terzo personaggio Ed è fondamentale Perché entra nell'animo Di chi l'ascolta E soprattutto di chi l'ascolta Abbinata alle immagini Mi auguro che questa mia piccola testimonianza Sia stata interessante per voi Vi auguro le cose più belle Per uscire da questo momento così difficile Veramente con tutto il mio cuore Ciao a tutti Buone cose Complimenti è bellissima Esattamente come la volevo io Leggera Piccola Compatta Colorata Coloratissima Bellissima Questa macchina da scrivere Cambierà la vita di tutti gli italiani Tutti Non solo i ricchi Ci farà pensare in modo diverso In modo libero Come si chiama lei Complimenti Grazie ingegnere Grazie a tutti Lo sa una cosa libero E' lo spirito stesso dell'olivetti Che vola per questa macchina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Ciao Ma è bellissimo Libero Complimenti Grazie